Si è conclusa con la stipula di un accordo tra l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara e l'ANA, l'Associazione Nazionale degli Alpini, la mattinata di lavori che si è svolta presso l'auditorium del Rettorato d'Annunziano con il convegno dal titolo Scienza, Conoscenza e Coscienza per la Prevenzione dei Rischi Naturali Antropici in Italia, al quale ha preso parte in videocollegamento anche Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016. Tra i presenti che hanno animato la tavola rotonda, anche Giovanni Legnini, commissario per l'emergenza di Ischia. Come si previene il rischio naturale e antropico in Italia? Con la formazione, l'informazione, determinando l'alleanza sempre più stretta tra la scienza, la tecnica, che hanno fatto passavanti notevolissimi, la decisione politica, la produzione legislativa e regolatoria, i comportamenti individuali dei cittadini. Occorre investire molto sulla prevenzione, sulla previsione, sulla capacità di mitigare gli effetti di catastrofi che in noi saranno più frequenti anche per effetto del cambiamento climatico. Dai lavori del convegno è emerso che l'Abruzzo resta una regione a rischio idrogeologico, anche se, come spesso accade, tendiamo a dimenticare le criticità in contesti di tranquillità. Proprio per tenere alta l'attenzione è stato organizzato il convegno odierno e stipulato l'accordo tra l'UDA e l'ANA. Liborio Stupia, magnifico rettore dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, allora perché un convegno sul rischio antropico e naturale in Italia? Ma perché il nostro Ateneo sta facendo una politica a 360 gradi di investimento sulla prevenzione e sulla salute, intesa come salute globale, salute umana, salute del territorio e salute animale. È il concetto di One Health che in questo momento è centrale. Noi abbiamo delle professionalità importanti nel campo della geologia da mettere a disposizione di queste problematiche. Stringere accordi, come abbiamo fatto oggi con l'Associazione Naturale Alpini, vuol dire poter avere dei referenti sul territorio che possano monitorare, fornirci delle informazioni che poi verranno elaborate dai nostri esperti, perché noi dobbiamo prevenire i dissesti idrogeologici e non poi intervenire dopo. E' stato detto chiaramente che intervenire dopo costa 10 volte di più di quello che si spenderebbe in prevenzione. Cosa è emerso quindi da questo convegno? Quali sono gli spunti da cui poter ripartire domani per lavorare concretamente su questo problema? Il primo che l'Abruzzo è comunque, lo sapevamo, una regione a rischio. Lo sapevamo ma poi tendiamo a dimenticarcene man mano che ci allontaniamo dall'evento. La seconda cosa che secondo me è emersa importante è la necessità di formare una coscienza collettiva, cioè al di là delle professionalità, i ragazzi che studiano qui devono uscire con la cultura della tutela dell'ambiente che passa per i comportamenti di tutti noi, semplicemente evitare di buttare della plastica per terra, evitare di buttare una cicca a terra. I singoli comportamenti fanno tantissimo, quindi fare questi convegni vuol dire anche trasmettere una cultura della conservazione del pianeta nei nostri giovani.